Se stai perdendo soldi sui mercati finanziari, ecco cosa devi fare, devi fare assolutamente questo, ti devi fermare un attimo, guardare questo video e poi iniziare a ragionare su quello che ti sto per dire. Ragazzi, questo è un video secondo me molto importante perché sto leggendo un po' di cose, un po' di commenti sui vari social, anche sul mio stesso canale YouTube, e questa cosa un po' mi dispiace. Ovviamente, ragazzi, stiamo parlando di una situazione di mercato estremamente ribassista, stiamo parlando di una situazione macro estremamente ribassista, e stiamo parlando di una situazione in generale che porta proprio a questo, porta alla disperazione, porta a gente che, oh mio Dio, ma quando mai ho investito in questo settore, oh mio Dio, ma quando mai ho dato retta agli YouTuber che ne parlano, e commenti di questo tipo. E tra l'altro, quando le cose vanno male, non so se ci avete fatto caso, tutti cercano un colpevole, è colpa di quel YouTuber, è colpa no, è colpa di quell'altro YouTuber, tu ne hai parlato, e cose di questo tipo. Leggo commenti veramente ovunque, su social, su Facebook, su Telegram, io sono presente un po' dappertutto, e leggo proprio un umore generale estremamente ribassista, estremamente triste anche, arrabbiato, frustrato, e quindi ti invito a fermarti e a fare questo. Prima di tutto, lascia un like a questo video, ed iscriviti al canale se ti interessano argomenti riguardanti la libertà finanziaria, perché questo è un canale diverso, non ne trovi altri in giro così, e poi soprattutto fermati proprio, fermati, 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 fermati. Cerchiamo di guardare, adesso andremo a vedere un grafico, e vi farò un piccolo ragionamento, anche se volete più tecnico, ma mi importa soprattutto cercare di arrivare a colpire il vostro mindset. Questo è quel momento, ragazzi, che tanto speravate, quando Bitcoin stava a 70.000 dollari, Polkadot stava a 60 dollari, Ethereum stava a 4.000 dollari, ora sto parlando solo delle cripto, ok? L'SP500 volava, faceva nuovi massimi, Nasdaq saliva, Amazon, Facebook, Netflix, avevano prezzi incredibili e non sapevate se entrare oppure no. Ecco, ragazzi, è arrivato, è arrivato l'inverno, è arrivato il momento bearish, quindi perché adesso vi state facendo influenzare così tanto, e state cambiando così tanto la vostra strategia, e vi state spaventando? Questi sono esattamente quei momenti ciclici di mercato che prima o poi arrivano, che, ragazzi, rappresentano la più grossa opportunità che potete avere, perché noi stiamo parlando del settore più importante, più promettente degli ultimi 50 anni. Almeno questa è la mia opinione, poi magari io mi sto sbagliando completamente, io sono un ragazzo di 29 anni che condivide i suoi investimenti, il suo percorso verso la libertà finanziaria, non sono un guru, ok? Non mi interessa esserlo. Quindi magari mi sto sbagliando completamente, ma per chi crede, come me, che questo sia davvero quel tipo di settore, che questo sia davvero il futuro, non si può spaventare adesso, non può andare in panico ora. Il macro è orribile, ragazzi, abbiamo la guerra, che non si sa se scoppia la terza guerra mondiale oppure no. Abbiamo sta cavolo di pandemia che continuano a fare un reclaim ogni due o tre mesi e ce la portano dentro. La Cina, che con il lockdown abbiamo problemi di supply chain, costo delle materie prime, inflazione alle stelle. Che cosa vi aspettate? Che i mercati salgano in questo momento? Pensate che Bitcoin vada a 2 milioni in questo momento? Probabilmente questa è una fase molto complicata da affrontare per chi non ha il mindset giusto. Io, ragazzi, sto perdendo soldi esattamente come voi. Non è che io sono immune da tutto questo, io ho perso anche parecchi soldi, soprattutto sull'una, per chi segue i miei investimenti periodici che ogni mese condivido, sull'una, ragazzi, avete visto il gain che avevo fatto? Ok? Io avevo un 100% di gain sull'una, eppure ho perso praticamente tutto, mi si è azzerato in 24 ore, tra l'altro in quel momento stavo pure lavorando, quando è successo il casino non sono neanche riuscito a seguirlo fin troppo bene. Nonostante tutto ho provato ad aggiornarvi, ho provato a tenervi informati, e ora l'una è fallita. Ma sì, relativamente, ora uscirà una nuova blockchain, stanno cercando di risolvere, vedremo come si evolverà. Secondo me è un progetto molto grosso, per il quale quando cade fa tanto rumore, e forse non cade neanche del tutto, vedremo come andrà. Questa è la mia opinione, però la questione rimane è che voi dovete cercare di avere il mindset giusto, per controllare le vostre emozioni, non andare a cercare un colpevole a destra e a sinistra, è colpa tua, è colpa mia, è colpa di chiunque. Ora andiamo a vedere questo grafico che prendo in prestito dal nostro amico Simo Defa, che ringrazio. Ecco, questo è il ciclo di Bitcoin, questo grafico è molto basilare, è molto semplice, ma ci aiuta a capire, ragazzi, in che cosa stiamo andando incontro. Perché ogni volta è la stessa storia, ogni volta che il prezzo crolla, abbiamo tutti i giornali che ne parlano, è scoppiata la bolla, Bitcoin è morto, le cripto sono le shit e tutto il resto. È sempre lo stesso discorso, ragazzi, è successo qui nel 2013-14, è successo qui nel 2017-18, e adesso sta succedendo qui nel 2022, ma è sempre la stessa storia. Questo è il grafico di Bitcoin guardato su un time frame ampio, ok? Qui non siamo sull'orario, stiamo guardando, va bene, probabilmente anche, credo sia il mensile questo grafico, sì, è un mensile, e quindi stiamo guardando il macro di Bitcoin a partire dal 2013 fino ad arrivare al 2025, ok? Quindi andiamo a vedere come si è comportato Bitcoin e quali sono i suoi cicli, i quattro anni di ciclo. Abbiamo una fase rialzista, una fase ribassista, la fase ribassista è il bear market che di solito succede sempre un anno dopo l'halving, poi abbiamo una fase di lateralità che può durare anche un anno, sei mesi, un anno, ok? A seconda, e poi di nuovo in prossimità dell'halving la fase rialzista. Questa è la prima volta che è successa, poi è successa un'altra volta. Qui stiamo parlando del 2017, ok? Abbiamo avuto una fase rialzista nel 2017, poi il crollo nel 2018, bear market, un anno di lateralità dove comunque vedete il prezzo prende anche a salire o a scendere, comunque nel suo range si muove, però diciamo non va a fare nuovi massimi, continua la sua fase di lateralità, poi in prossimità dell'halving, balabum, ci risiamo un'altra volta, un altro bull market che dura ancora un paio di anni, di solito appunto da sei mesi circa prima dell'halving, fino a un anno dopo l'halving, ok? E poi adesso siamo di nuovo nella fase ribassista, ed è probabile, non è certo ragazzi, non è una matematica, va bene? Non è che stiamo dicendo qualcosa che è per forza così, ma è probabile che ora continuerà questa fase ribassista, probabilmente fino a fine anno, poi continuerà una fase laterale in cui ci potranno essere anche dei rialzi, ma probabilmente non andremo a fare nuovi massimi, e poi ragazzi tra il 2023 e il 2025 tornerà probabilmente la nuova fase bullish, e per quanto mi riguarda questa rimane la mia opinione, la mia stretta opinione, questa sarà l'ultima bull run prima della consacrazione definitiva di questo settore, perché io sono convinto che non è che questa cosa qui ragazzi andrà avanti per sempre così, ok? Questa sarà probabilmente la fase in cui Bitcoin e le cripto diventeranno a tutti gli effetti consacrate e parte del mondo della finanza. Avete visto già come sono cambiate le cose in questi ultimi anni, tra 2020 e 2022? Avete visto, a parte la crescita appunto prevedibile, prevista, quando Bitcoin stava a 5.000 dollari, io già facevo video in cui ne parlavo. Ragazzi vi invito ad andarvi a vedere, io ho un canale ormai da due anni, andate a guardare i video che facevo due anni fa, ok? Spesso e volentieri parlavo già di Bitcoin quando stava a 5.000 dollari, quindi chi mi viene a dire adesso hai fatto l'in in cripto quando è crollato tutto? Ragazzi, ma stai dicendo una minchiata, non è vero, io faccio video sulle cripto da almeno due anni ragazzi, ok? Il crollo sui mercati in questo momento è generale ragazzi, non è solamente su Bitcoin, ok? Quindi dovete anche capire questa cosa, non è che solo Bitcoin sta andando giù, stiamo vivendo una fase ribassista, ma che doveva arrivare il reset, ci doveva essere ragazzi. Era prima che era troppo dopato, era troppo in hype tutta la situazione, e anzi siamo pure fortunati, perché questo reset sta arrivando proprio adesso, in questa fase di winter, di cripto winter, che pensate se dovesse accadere nel 2024 con l'alving, ok? Sarebbe un casino, è molto meglio che capiti ora, ok? Quindi adesso che cosa devo fare? Devo comprare, devo fare all-in, devo entrare all-in sul mercato? Assolutamente no! Quello che devi fare è continuare con la tua strategia, I fondamentali ragazzi non sono cambiati, anzi sono sempre più forti, sempre più paesi adottano Bitcoin, sempre più paesi adottano le cripto, ok? Poi ci sono problemi, certo che ci sono problemi, l'uno è stato un problema, certo che è stato un problema, ma questo ragazzi non vuol dire nulla. Tutte le rivoluzioni umane, tutte, basta prendere qualsiasi libro di storia, passano attraverso il sangue, ok? Passano attraverso la guerra, passano attraverso processi molto burrascosi, ok? Non è che una rivoluzione arriva, boom, viene adottata, è facile, è tutto così, va tutto liscio, e tutti iniziamo a... No, ragazzi, perfino internet, quando è stato adottato a un certo punto, andatevi a vedere gli articoli di giornale, è stato criticato, eh ma chi vuoi che lo usa, c'è la crisi dei siti web, eccetera eccetera, ok? Tutte le rivoluzioni tecnologiche, scientifiche, sociali, umane, sono passate attraverso una fase di guerra, una fase in cui veramente bisognava essere dei pionieri, ed essere quasi dei fedeli, dei credenti, per potersi godere poi i frutti come appunto i primi che sono entrati. Voi ricordatevi che noi siamo ancora i primi che sono dentro questo settore, perché sì è cresciuto tanto, ma la maggior parte della gente ora sta scappando, la maggior parte della gente ora uscirà per sempre dal mercato, venderà le proprie posizioni in perdita, in preda alla frustrazione. Ecco, io vi invito a non farlo, vi invito a capire che cosa state facendo, adottate una vostra strategia e cercate di capire in che fase di mercato siamo, che cosa sta succedendo, guardate i fondamentali, e non cercate sempre qualcuno da criticare, non cercate sempre di dare la colpa a qualcuno, perché se perdete i soldi la colpa è solo vostra, ragazzi. Se voi guardate questo video, adesso andate a fare un link su Bitcoin, perché avete visto un video in cui ne parlo bene, ragazzi è colpa vostra, non è colpa mia che parlo di Bitcoin, io sono qua a condividere quello che penso, punto e basta, non sono qua a fare il guru di niente, ok? Io non ti sto vendendo il corso in cui ti insegno come investire sulle cripto, va bene? Non mi interessa assolutamente nulla, quindi quello che per me è importante è la condivisione, perché quello è il primo tassello per la crescita, e se voi cercate per forza di dare sempre la colpa a qualcuno, a me o a qualche altro YouTuber, perché non è che quelli più grossi, quelli considerati più tecnici, più esperti, sono stati immuni da queste cose, ok? Ah no, sono stati attaccati tantissimo anche loro, ok? Io vi ringrazio di aver guardato, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!